Priolo, colpevole di furto e truffa, arrestata a 37 anni per lei oltre 4 anni di reclusione. I carabinieri della stazione di Priolo hanno arrestato una donna di 37 anni in esecuzione di un provvedente emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bella, poiché è stata riconosciuta colpevole di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furto e truffe e condannata a 4 anni e 9 mesi di reclusione. L'arrestata, dopo le formalità di diritto, è stata associata alla casa circondentrale di Messina, a Gazi, come disposto dall'autorità giudiziaria.